Allora, buonasera. Perché abbiamo voluto parlare di ultima generazione? Perché effettivamente si stava dicendo prima che oggi tutto viene inglobato dal capitalismo. Nancy Fraser lo chiama capitalismo cannibale. Qualunque istanza, qualunque lotta, poi alla fine può essere mercificata, commercializzata, monetizzata. Ed è molto difficile creare degli atti che siano davvero sovversivi, che scuotano. Il problema è che a volte quando lo sono non vengono capiti e vengono giudicati come un attacco al decoro. E allora volevamo parlare con ultima generazione per cercare di capire non tanto, perché quello che mi hanno chiesto è di non parlare tanto di ultima generazione come realtà, ma di parlare della ragione per cui esiste. Intanto Anna mi diceva prima che voi non definite quello che fate attivismo, ma in realtà appunto sono gesti di disobbedienza civile. Sì, noi ci definiamo cittadini preoccupati. Personalmente io non ho problemi a definirmi anche attivista finché l'attivismo non è tranquillo, finché non diventa un attivismo tranquillo, un po' per fare il mio, nel mio piccolo e rimanere nella mia zona di comfort. Vorrei riprendere le parole di Miguel Benasayag, prima, che parlava della necessità di rinunciare alla vita tranquilla e di accettare il rischio. Questo è esattamente quello che facciamo, quello che è ultima generazione, che è un progetto di disobbedienza civile non violenta. La non violenza non è l'antitesi letterale e simmetrica della guerra. Sono parole di Aldo Capitini, è stato un grande teorico della non violenza, traduttore di Gandhi in Italia, che ha detto che è un errore credere che la non violenza sia pace, sonno, vita tranquilla, matrimonio, ordine, figli in grande abbondanza. Nulla di spezzato nelle case, nessuna ammaccatura nel proprio corpo. La non violenza è guerra anch'essa, anzi, per dir meglio, lotta. Lotta contro le situazioni circostanti, le leggi esistenti, le abitudini altrui e proprie, contro i propri sogni, la propria anima e subcosciente. La non violenza fa bene a non promettere nulla del mondo, se non la croce. La non violenza significa prospettarsi una situazione tormentosa, essere pronti a vedere l'ordine intorno, il caos, la prepotenza dei malvagi. Io mi chiedo se noi siamo pronti a prospettarci una situazione tormentosa, perché sì, teoricamente immagino che non ci sia nessuna persona qui che neghi il cambiamento climatico, il collasso climatico, per meglio dire, che nessuno qui è un negazionista che dice, ma sì, la temperatura è sempre salita, la siccità c'è sempre stata, andrà tutto benone. Penso che nessuno qui lo sia, però esiste anche il negazionismo climatico leggero, che è il negazionismo di chi dice che non serve che facciamo qualcosa noi, perché comunque ci penserà qualcun altro, e che la situazione non è poi così grave. Non so quanti qua si rendono conto e sono connessi pienamente con il terrore, con il fatto che tra due anni, tra cinque, poco importa se siano due o cinque, ma saranno, non avremo più acqua e non avremo più cibo. E sì, ci facciamo molti pipponi sul nostro privilegio, ma cosa significa mettere quel privilegio veramente in prima linea? Quante persone tra di voi sarebbero pronti a prendersi multe e denunce? Quando io parlo di queste cose la gente dice, sì sì, tutto giusto, bravi, bravi. Anzi, fate schifo, vi odio, siete delle merde il più delle volte, ma a parte questo, che sono un'aliena? Anch'io ho un lavoro, anch'io ho una famiglia. non è che faccio disobbedienza civile perché sono cascata dal cielo e va tutto bene. Quello che io metto in dubbio è che facendo questi festival e parlando di queste cose e discutendo del nostro privilegio, io mi chiedo se siamo pronti a portare questo attivismo fuori dalla sfera privata, perché va molto bene finché è in un luogo sicuro. Sì, nel mio piccolo farò la differenziata, magari non mangio carne, magari non prendo gli aerei, sì, magari faccio una manifestazione autorizzata, magari ne faccio anche una non autorizzata, ma faccio bene attenzione a non mettere a rischio nulla, perché le multe non le posso pagare, magari io non voglio quella rottura di balle, perché non voglio le denunce, perché ho un concorso, io ho rinunciato a un posto pubblico nella scuola, perché mi sembra grottesco parlare di prospettive di lavoro, di sogni e di vita tranquilla quando siamo in guerra, quando siamo veramente in una situazione che ricorda quella degli anni venti e rendiamoci conto di dove siamo. Io ho fatto un'azione davanti al Senato, davanti a Palazzo Madama, con delle persone, due donne si sono versate del fango addosso a simboleggiare l'alluvione in Emilia Romagna, c'erano molte altre persone, loro hanno fatto particolarmente scalpore perché erano in topless e i media hanno buon gioco poi a spettacolarizzare tutto, senza risemantizzarlo però, senza dire cos'è veramente quello che stiamo facendo. noi stiamo cercando di essere ascoltati dai politici che non hanno ascoltato nulla perché le manifestazioni, la divulgazione, i metodi accettabili che non sono i nostri e non hanno capito bene quali sono. Se i metodi che vanno bene sono quelli che si sono usati negli ultimi trent'anni, mi dispiace, ma non funzionano perché la situazione in cui siamo sono più investimenti nei combustibili fossili che mai. È una situazione in cui l'Europa si sta scaldando a una velocità allucinante e se teniamo ai nostri figli, se teniamo ai nostri cari a noi stessi, ci invito veramente a fare qualcosa e quando ho fatto questa azione in Senato che vorrei raccontarvi un attimo, siamo stati portati via dalla polizia con estrema violenza, ci hanno trascinato proprio per farci male e ci hanno messo in una vietta laterale a Palazzo Madama e sono usciti dalla porta laterale dei parlamentari e dei senatori e lì io ho avuto veramente un momento non lo so, è stato, noi eravamo lì coperti di fango malandrati, con i lividi, eravamo lì e volevamo solo farci ascoltare da loro e io mi chiedo quale politico minimamente responsabile non possa vedere dei cittadini ed eravamo tutti tra i 20, 30, 40 anni non può vederli e dire se loro stanno facendo questo solo per dirmi occupati della cazzo di crisi climatica se io vedo questo e non entro di corsa dentro Palazzo Madama e dico noi dobbiamo fare tutto per queste persone perché ci stanno supplicando di ascoltarle allora io non posso stare qua devo rimettermi eppure no noi siamo in un paese in cui il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi può andare in televisione e dire la crisi climatica è finta e non venire licenziato in tronco questa è la situazione in cui ci troviamo sono usciti dei parlamentari e dei senatori dicevo ci hanno guardato è uscito quest'uomo decoroso con una faccia tutta pulita che era brutto ma di una bruttezza interiore bestiale proprio ci guarda uno per uno ci indica e fa tu quanti anni hai? tu quanti anni hai? tu quanti anni hai? ah l'età di mia figlia ed è tornato dentro noi abbiamo risposto solo per vedere fino a che punto si protraeva questo assurdo grottesco della situazione io mi chiedo in quale paese non si può fare resistenza civile quando abbiamo dei politici che quando io sono coperta di fango e di lividi davanti a loro e mi sono tolta pure la maglietta perché a quanto pare le mie tette fanno più scandalo e più notizia della fruit valley che è marcita dell'agricoltura che è in crisi e del fatto che tra pochi anni probabilmente dovremo migrare perché farà troppo caldo e moriremo semplicemente di caldo di fame di stenti mi chiedo in quale paese non si possa fare questo quando il mio politico rappresentante senatore davanti a me è capace di dire solo quanti anni hai e non di dire dimmi cosa devo fare e se questo è il paese in cui mi viviamo io voglio stare dall'altra parte perché io ho guardato queste persone una per una mi hanno dato la pelle d'oca ho pensato sì queste sono le persone che facevano partire i treni perché questa è la situazione in cui siamo siamo in una situazione come vi spiegherà Riccardo in cui veramente non so se ci rendiamo conto ripetiamo i dati ogni tre per due escono dei rapporti poi si dice ma sì c'è una speranza e poi ce ne sbattiamo il cazzo perché il giorno dopo abbiamo i nostri problemi e non ci pensiamo più alla crisi climatica che angosciante sì ma bisogna fare qualcosa e spoiler non ci sarà la rivoluzione senza il sacrificio e non è il sacrificio di chi vuole passare per la martire è proprio rendere sacro rendere sacra la vita non ci sarà la rivoluzione non ci sarà nessun cambiamento se non decidiamo veramente di mettere a rischio qualcosa di iniziare almeno a provarci può essere il lavoro può essere la famiglia i miei genitori non mi parlano più non ho tranquillità mi baso sulle donazioni non so quanto potrò andare avanti ma so che non ci sarà nessun modo per tirare avanti per nessuno se non affrontiamo questa situazione qui e adesso mi è capitata una cosa qualche mese fa se vi ricordate ci fu appunto un altro alluvione nelle Marche di cui si parlò appunto come un altro effetto del cambiamento climatico io dovevo andare in televisione a parlare in realtà di tutt'altra cosa però quando stavo andando mi dissero appunto che era cambiato tutto il programma e avrei parlato dell'alluvione delle Marche c'era un climatologo che appunto disse chiaramente che questa cosa anche appunto il fatto che il terreno non riesce ad assorbire così tanta acqua tutta insieme è dovuta è un effetto antropico quindi dipende proprio dal modo in cui noi abbiamo manipolato il territorio e quindi ci andammo giù pesante con questa cosa ma siccome andavamo giù pesante di mattina in una televisione pubblica c'erano tra gli altri come ospiti c'era un giornalista piuttosto conosciuto e dopo dietro le quinte ci disse non si possono dire queste cose perché poi la gente non va più in vacanza e io ho registrato questa frase cioè ho pensato quelle cose proprio salva con nome perché mi sembrava assurdo che questa persona non pensasse che cioè come dire lui pensava all'economia all'economia al turismo non pensava alla sopravvivenza delle persone non pensava che poi tutto questo rischio che tocca chiunque tocca soprattutto in realtà le persone ovviamente più povere le persone che se perdono la casa come è successo in Romagna hanno ovviamente più difficoltà a risollevarsi e mi sembrava appunto un'affermazione che dal suo punto di vista era perfettamente ragionevole e che probabilmente nasceva anche da informazioni e dati sulla crisi climatica allora volevo chiedere a Riccardo Mercati quali sono questi dati che abbiamo a disposizione come si diceva sono tantissimi e ormai c'è un consenso scientifico praticamente totale e perché però questi dati non riescono a convincere la politica le istituzioni che ovviamente hanno il potere di cambiare le cose soprattutto rispetto a tutte le questioni energetiche globali ma poi in realtà spesso anche l'opinione pubblica allora innanzitutto grazie Altlon per l'invito grazie Maura della introduzione per capirsi noi siamo quelli che hanno fatto i blocchi sull'accordo anulare sul GRA magari qualcuno di voi è stato convolto e fanno quelle sceneggiate sulle fontane facendo il bagno da fontana hanno chissà fatto quali quali danni ai monumenti italiani praticamente nulli perché facciamo queste cose io sono un imprenditore fra l'altro forse sono in una posizione più fortunata rispetto a chi fa ha dedicato la sua vita al movimento alle elezioni dell'ultima generazione perché facciamo queste cose allora nel 1990 conferenza di Rio de Janeiro per la prima volta ci siamo resi conto gli stati hanno ammesso che il riscaldamento globale è un grosso pericolo ma la scienza lo sa già dal 1800 alcuni scienziati straordinari già sapevano che mettendo gas climalteranti fra cui CO2 e metano il clima della terra sarebbe surriscaldato perché avrebbe creato un effetto serra pensate che geni e già negli anni 50 negli anni 60 negli anni 70 queste cose sono state studiate si sapevano già ci sono notizie che negli anni 70 le grandi compagnie petrolifere hanno creato confusione e disinformazione per far sì che queste notizie venissero ignorate o comunque sia negate 1990 prima conferenza si sa che c'è questo problema accordo di Chioto 32 anni fa ok nel frattempo quindi cosa è successo in questi 32 anni che il genere umano ha emesso quasi il 50% di gas clima alteranti della storia dell'industrializzazione 50% cioè abbiamo fatto nulla stiamo continuando a creare un disastro climatico ok adesso siamo in una crisi climatica domani forse arriverà un collasso climatico i stati si incontrano i politici si incontrano siamo arrivati a 28 a 28 coppa ok sono quelle conferenze internazionali che tutti prendono il jet vanno in Arabia Saudita in cui si arriva con i jet privati promosse da sponsor totalmente insostenibili bravo infatti già il calcolo di jet privati sono arrivati all'ultima conferenza di dove era mi ricordo se era a Glasgow insomma praticamente però solo chiacchiere i stati non si assumono impegni nell'ultimo qualche impegno sono assunto allora cosa dice la scienza molti di voi lo sapranno magari qualcuno è anche più informato di me che siamo a 420 parti per milioni di CO2 praticamente il doppio dell'era preindustriale e questi valori non c'erano da quasi 9 minuti di anni praticamente quando nella Groenlandia c'erano i coccodrilli e continuando così andremo incontro a un surriscaldamento di 4,5 gradi cioè è come vivere nel Sara cosa dobbiamo fare? dobbiamo diminuire le emissioni del 50% entro il 2030 e azzerarle nel 2050 per avere qualche prospettiva non tutte qualche prospettiva di rimanere a 1,5 gradi che è considerata la soia di sicurezza se invece decidiamo di diminuire entro il 2070 andremo a 2 gradi ma questo vuol dire non vuol dire solo che sarà più caldo vuol dire che rischiano l'estinzione tantissime specie il collasso degli ecosistemi 1,5 gradi è considerato un traguardo di sicurezza della scienza sopra quello cosa avviene? avviene che più saliamo peggio è cioè se siamo a 2 forse ce la caviamo se siamo a 3 sarà un inferno se siamo a 4 non se ne parla sarà come vivere in un forno forse diventerà di moda la Siberia allora dovremo tutti da Putin da chi sarà al posto di Putin per comprarci una chalet in Siberia perché qui sarà diventato un inferno il Mediterraneo è già a 1,5 gradi il mondo è 1,1 cosa facciamo? l'Italia non sta rispettando gli impegni che si è assunta in sede europea di diminuire il 55% i gas alteranti entro il 2030 non lo stanno facendo nel 2021 il nostro governo ha dato 42 miliardi 42 miliardi di sussidi alle fonti ambientalmente dannosi ciascuna delle vostre famiglie paga 2000 euro 2000 euro l'anno è più di un buono stipendio per danneggiare distruggere l'ambiente il nostro movimento chiede questo una cosa molto concreta stop fermiamo questa follia facciamo la nostra parte tutto il mondo deve farla ma anche noi italiani non possiamo dire la scena quella a quel lato non lo fa noi dobbiamo fare la nostra parte che ora di abbattere queste emissioni entro il 2030 ci sono impegni ci sono trattati non siamo dei visionari non siamo degli anarchici siamo dei cittadini io sono l'imprenditore lo possiamo fare le tecnologie ci sono già il fotovoltaico è la tecnologia di produzione energetica che costa meno in assoluto non ci sono le autorizzazioni sono stati stanziati è stato calcolato 40 miliardi di investimenti perché purtroppo bisogna dirlo l'ambiente si può salvare anche con l'economia di mercato 40 miliardi di investimenti nel 2021 22 è stato riconosciuto approvato il 10% delle richieste e poi continuiamo a finanziare allora il nostro movimento le fonti fossili chiaramente nonostante il fotovoltaico sia la fonte che costi di meno 3,7 centesimi a kilowattora prodotto nelle vostre casse voi pagate sapete quanto pagate? 30 centesimi ogni kilowattora 25 20 un anno fa quando c'è stato lo shock energetico anche 50 costa 3,7 si può produrre energia verde con il sole? hanno preso molto economico l'ecolico 4 il gas 6 il carbone 11 il nucleare 16 ok? quindi si può fare economia si può fare avere un benessere con le fonti rinnovabili chiediamo questo e lo facciamo attraverso azioni di disobbedenza civile non violenta perché finora non ha funzionato ok? allora ho due domande in realtà ci rimarrebbero due minuti ma voglio farvi due domande vi chiedo di rispondere molto velocemente la prima Anna Castoldi perché in realtà secondo molti studi sociologici quello che viene criticato spesso è ma voi bruciate tutto il come dire i discorsi sulla causa quindi allontanate le persone dalla causa con questi gesti in realtà secondo gli studi non accade così cioè questi gesti in realtà possono anche aumentare il sostegno questo appunto quello che ci dicono quindi non è vero che poi si allontanano dalla causa e invece poi volevo chiedere a Riccardo Mercati la questione che mi diceva delle poll tax che è legata al governo Thatcher quindi se riuscite appunto a rispondere in pochi minuti si faccio più rapidamente possibile ti ringrazio intanto di di aver notato che gli studi sociologici non nessuno studio sociologico dice che quello che facciamo o comunque che fare disobbedienza civile o disruption allontana le persone dalla causa il punto è che a noi non interessa rendere d'accordo le persone con i nostri metodi non ci interessa proprio ma polarizzarle sulla causa in modo da creare delle conversazioni in cui le persone si spostino lungo la cosiddetta finestra di Overton in cui le persone cambiano idea avendo sempre più conversazioni si trovano a cambiare idea perché le persone cambiano idea non è vero che non cambia mai niente e che il mondo è senza speranza noi un valore fondante di ultima generazione è il conflitto noi siamo qui per creare conflitto il primo conflitto che abbiamo è quello dentro noi stessi stiamo davvero facendo tutto quello che possiamo per dare qualcosa dare un più attento a vivibile a noi e alle future generazioni ai nostri figli lo stiamo facendo davvero o stiamo nascondendo la testa sotto la sabbia perché se vi siete stancati di pipponi sul privilegio e se non volete andare a casa stasera magari pensarci ma domani fare tutto da capo e trovarvi di nuovo più o meno come prima ho qua un form per raccogliere contatti in cui noi siamo dietro quella palma la prima che c'è lì se volete lasciarmi il vostro contatto vi terremo aggiornati e vi spiegheremo come si può essere coinvolti in ultima generazione vorrei concludere solo con una metafora se c'è un tavolo con una con una tovaglia sopra diciamo e su questo tavolo c'è tutto quello che abbiamo il lavoro l'arte la famiglia tutte le cose che ci sono care per cui abbiamo la nostra vita per cui pensiamo che valga la pena vivere il clima sono le gambe del tavolo se tu le tagli crolla tutto quindi non ci sarà più nient'altro non ci sarà assolutamente nulla se noi non ci occupiamo di questa cosa immediatamente siamo noi che lo dobbiamo fare ciascuno di noi per me non varrebbe nulla parlarvi questa sera perché se solamente mi ascoltaste e fosse d'accordo con me perché non siamo animali razionali che se ne dica non è che noi abbiamo le informazioni come dicevamo ora prima perché non abbiamo agito se sappiamo tutto perché non agiamo perché è molto più complesso di così non ci passa a vedere ah ok i dati sono questi allora facciamo questa cosa stiamo facendo tutto il contrario è l'azione che muove è l'azione più coerente che si può fare quando la tua casa sta bruciando e la casa brucia e c'è della gente dentro e tu sei fuori dalla casa e dici ehi la casa sta bruciando non ti ascoltano fai una manifestazione in una piazza e dici la casa sta bruciando con dei cartelli e tutti ti dicono bravo bravo qualcuno dovrebbe proprio dire che la casa sta bruciando cavoli è un problema che sfiga ma tutto continua esattamente come prima questa è la situazione in cui siamo allora se quelle macchine continuano ad andare e nessuno si occupa della casa che sta bruciando e intanto tutto va in cenere la cosa più sensata e coerente e logica che una persona può fare è buttarsi in mezzo alla strada fermare le macchine e dire cazzo guardate che la casa sta bruciando fermatevi perché qualunque lavoro qualunque cosa state facendo e state andando a fare se la vostra casa va in cenere non varrà assolutamente nulla e alle persone se ce ne sono qua o se ce ne saranno che mai verranno bloccate da un blocco e veramente io vi chiedo di cuore se vi capiterà che ci troviamo davanti a voi con uno striscione che blocchiamo la strada invece di suonare il clacson o insultarci io vi chiedo di scendere dalla macchina e di sedervi con noi perché quando tutte quelle macchine si fermeranno e si siederanno insieme a noi che finalmente il governo ci ascolterà e cambierà qualcosa grazie sì ho visto che il tempo è esaurito perché facciamo disobbedienza civile perché è stato dimostrato storicamente che è la forma di resistenza di lotta più efficace in assoluto nel 1986 il governo Thatcher pianificò l'introduzione di una riforma della tassazione locale che si chiamava Community Charge che poi è diventata la Poltax intorno nel 90 e nel 91 allora questa cosa era una cosa di poche centinaia di sterline intorno ai 300 sterline e c'erano anche degli sgravi fiscali delle esenzioni per cui in realtà chi non guadagnava i studenti i disoccupati non lo pagavano però si diffuse la voce un po' che questa cosa era iniqua perché un ricco pagava quanto un lavoratore eccetera eccetera discutibile insomma perché la tassazione è complessa ci sono decine di tasse quindi ci sta che una sia regressiva fatto sta è nato un movimento di disobbedienza civile che ha fatto cadere il governo Thatcher è stato sicuramente fra gli elementi che l'hanno fatto cadere la disobbedienza si rivolgeva a evitare la registrazione perché era una poll cioè sulle l'urne sugli elettori evitare la registrazione dei messi governativi e non pagare si arrivò a una a un'evasione del 40% 40% e questo che ha portato fra le altre cose alla caduta del governo un'efficacia straordinaria attraverso queste azioni semplici di disobbedienza ok? venite con un'azione cioè se lo hanno fatto gli inglesi per 200 sterline e una caolata del genere ma perché non possiamo farlo noi che la nostra casa sta bruciando cioè si parla che fra 15 20-30 anni non si sa quando si potrebbe essere questo collasso cioè il mondo diventerà veramente invivibile noi cosa faremo? noi siamo su una delle zone del mondo che si stanno sorriscaldando più velocemente dove andremo? andremo al polo nord? dove andremo? cosa faremo? cioè ogni 0,1 gradi in più di riscaldamento si stima che 140 milioni di persone usciranno dalla nicchia climatica cioè dalle zone dove si vive e si può produrre mangiare produrre agricolture in maniera confortevole quindi cosa cosa state facendo voi? unitevi a noi ha detto bene ha detto prima Anna venite da noi se volete altrimenti ogni domenica sera ne facciamo una presentazione spiegando nel dettaglio quanto siamo nella M ok? iscrivetevi e venite ad ascoltare quella ci sono tanti modi di partecipare al movimento non solo andare in strada a fare i blocchi forse qualcuno se la sente magari un giorno vi faranno una statua qualcuno no? uniteci a voi perché siamo nella M dobbiamo farlo per noi per i nostri figli per chi viene dopo di noi grazie se siete preoccupati e volete fare qualcosa siamo dietro la palma e raccoglieremo i vostri contatti grazie ringrazio molto Anna Castolli e Riccardo Mercati di ultima generazione grazie grazie a tutti